E' rappresentato sì dai tumori femminili che ancora oggi rappresentano un tumore di altissima incidenza. Pensate che una donna ogni otto nel corso della propria vita incontra un tumore della mammella, ovviamente diversificato per età. Si parla di donne che oltre i 45-50 anni soprattutto, anche se l'età oggi tende a abbassarsi. E' una malattia di cui si guarisce. Se si fa prevenzione, cioè se si ricorda di fare la mammografia, la visita senologica, l'ecografia, è una malattia che oggi, quando soprattutto viene trovata in una fase iniziale, parliamo oggi della capacità di trovare malattie anche di 5, 6, 7 mm, guarisce anche evitando quella cosa che ci fa tanto paura e che è la chemioterapia. Molto spesso non è neanche necessaria se il tumore viene preso nelle fasi iniziali. Questo mese è l'occasione, magari per rivolgersi al proprio medico, agli ambulatori che saranno presenti gratuitamente dall'ASL o nei nostri ambulatori della LIDI. che sono in corso a Montbello 49. O comunque di ricordarsi che la prevenzione va veramente a salvare una vita. Quindi se devo dire una frase che sia completa, vorrei dire come LIDI, aiutateci ad aiutarvi. E il Mese Rosa è il momento per ricordarsene di più. Ecco, cambiando discorso, ma neanche più di tanto, come è cambiata la lotta ai tumori, la lotta del tumore al seno ai tempi del Covid? È cambiata ed è cambiata pesantemente. È cambiata soprattutto nei tre screening principali, cioè la mammografia, il pap test, la ricerca del sangue occulta nelle feci, perché innanzitutto nel periodo del Covid si è arrestata. Le indagini di primo livello non ci sono più state, per motivi che non si poteva far arrivare alla gente negli ambiti di strutture a rischio e anche il flusso delle persone. Ma anche adesso la ripresa è difficile per un motivo banalissimo. Cioè io di solito chiamo dieci donne a fare la mammografia e me ne chiamo cinque di più, perché so che una parte di loro non verranno e quindi c'è l'overbooking, quello che si chiamano. Bene, in questo caso non lo possiamo più fare. Quindi le donne vengono chiamate a distanza di tempo prefissato, facciamo conto mezz'ora, e quindi anche quella mezz'ora in cui non si presenta la donna rimane vuota. E questo riduce i numeri della ripresa dello screening. Ho fatto l'esempio del mammografo, ma riguarda anche altre indagini di diagnosi. Questo è molto importante, per cui se dovessi dare un consiglio, se ricevete un appuntamento per i screening della nostra azienda o anche presso la Lilt, non mancate, perché se mancate portate via qualcosa a qualcun altro e questo non è buono.